Noi abbiamo presente di fare più punti possibili da qua alla fine e quindi di cercare di portare sul campo il massimo e il meglio di noi stessi. Poi alla fine si tireranno le somme e faremo i conti. È chiaro che raggiungere l'Europa League direttamente al girone sarebbe un obiettivo molto importante, ma per fare questo dobbiamo recuperare dei punti e quindi noi dobbiamo pensare in queste cinque partite di vincere le più partite possibili. Questo è il calcio moderno. Ci sono due fasi di gioco e i giocatori devono essere attivi in entrambe le fasi di gioco. Ed è chiaro che Cassi e Cianaloglio hanno queste caratteristiche, hanno queste capacità. Il calcio moderno prevede un giocatore attento, un giocatore propositivo, un giocatore pronto a cambiare posizione in campo, anche a leggere certe situazioni che non sono sempre standard ma che cambiano velocemente. Tanti fattori hanno contribuito a far sì che la squadra sia veramente squadra dall'inizio alla fine, con equilibri, con posizioni anche diverse, con giocatori anche con caratteristiche diverse da quelle che avevamo all'inizio. Ma perché si è lavorato tanto, si è lavorato in una direzione di nuove posizioni sul campo, nuove idee, nuovo modo di stare in campo. Ci voleva un po' di tempo e adesso che siamo diventati squadra dobbiamo stringere perché si sta parlando troppo del nostro futuro, ma è troppo importante questo presente. Quando mi riferisco a che siamo squadra non mi riferisco solamente agli aspetti tecnici e agli aspetti tattici di una partita, ma mi riferisco a uno spirito, a una voglia di lavorare insieme, a una voglia di condividere certe situazioni, e a una voglia di dare il massimo per il bene della squadra. Questo lo stiamo facendo, lo abbiamo sempre fatto. Secondo me siamo stati molto bravi a farlo soprattutto nelle difficoltà, perché è facile stare bene insieme, è facile divertirsi quando arrivano i risultati, quando arrivano le vittorie. È più difficile credere in quello che fai quando invece le difficoltà ci sono, anche in termini di risultati. Noi siamo stati bravi invece a credere in quello che facciamo, i giocatori soprattutto, a credere in quello che è il nostro modo di stare insieme, il nostro modo di lavorare. E essere diventati squadra significa questo, avere tutti i giocatori pronti, avere tutti i giocatori disponibili, che mettono da parte anche le ambizioni personali a favore del bene della squadra. Questo è molto importante. Ecco, la Roma è in vantaggio su di noi. E quindi noi dobbiamo insistere, insistere, accelerare, fare i più punti possibili. Però non dobbiamo sperare sulle cadute dei nostri avversari, dobbiamo invece essere consapevoli delle nostre qualità, consapevoli che la partita di domani sarà una partita molto difficile e altrettanto importante, perché abbiamo la possibilità di fare bene, abbiamo la possibilità di continuare su questi tipi di prestazioni, su questa voglia di stare dentro la partita. Se domani ci sarà bisogno veramente di tutte le qualità che abbiamo, mi riferisco, e soprattutto credo domani affrontando un avversario così aggressivo, un avversario che non ci farà giocare facilmente, sarà dal punto di vista tecnico che dovremo fare una partita eccellente. Ne abbiamo le possibilità, ma su quello dobbiamo essere molto concentrati, perché tecnicamente dobbiamo fare una partita molto precisa e con un livello alto. L'allenamento di oggi e anche di domani mattina sarà importante. Io credo che a Zata non gli vada chiesto niente, perché se vado a chiedergli come sta, la risposta è sicura, che si sente bene sicuramente, ma si sentono bene anche tutti i loro compagni, quindi deciderò in base allo schieramento iniziale e anche in base, soprattutto, a quanto sono importanti avere dei cambi di qualità, dei cambi con determinate caratteristiche, perché in questo momento partirebbe è importante, ma avere la possibilità di cambiare caratteristiche, di mettere qualità e personalità anche nel corso della partita è una situazione molto importante.